Davide Urbani, opposto della Grifovolle Perugia, che è anche il top scorer questa sera con 19 punti, hai messo un bel marchio su questo match che ha segnato il riscatto della Grifovolle dopo due sconfitte. Un bel 3-0 contro l'Italgame Cifoligno. Sì, sono contento della mia prestazione anche perché venivamo da una settimana in cui non ci stavamo allenando benissimo, un po' di giorni in cui abbiamo perso il ritmo, l'allenamento, quindi siamo contenti perché ci siamo ritrovati belli e anche bravi proprio nel sistema di gioco, come ci organizziamo, come facciamo il cambio palla, ci siamo piaciuti molto, molto, molto oggi. E tra l'altro c'è da segnalare che è una Grifovolle Perugia che aveva qualche defezione importante, fuori Bondini, fuori Cipolletti, anche le seconde linee erano in non perfette condizioni, anche Maurel fuori in tribuna e comunque chi era in campo ha fatto la sua parte dignitosamente. Certamente, innanzitutto il duveroso annuncio va al Mazza, al Stefano Bondini perché comunque anche se ha qualche problema con la schiena riesce sempre a infonderci una grande grinta, poi anche il Cipo che oggi all'improvviso ha dato forfait e quindi è stato bravissimo Alessandro che è riuscito a sopperire anche in maniera discreta oggi, è stata una grossa partita. Un primo set eccezionale il tuo, nove punti a referto, ma un primo set eccezionale da parte di tutta la squadra che ha sbagliato solo un errore regalato agli avversari, è sicuramente un segnale di maturità per questa squadra? Beh, indubbiamente, ciò che non era successo con Chius è successo oggi, abbiamo dato un ulteriore segnale di crescita, di miglioramento, ci siamo piaciuti molto ancora e speriamo di continuare così perché questa è la via giusta, la via della crescita, è la via della buona pallavola secondo me. Grazie. What's going on?